Comodi, è arrivata una proposta per visitare delle aziende palermitane, volete aderire? Sì! L'agenzia è costituita da tre reparti che sono fondamentali, reparto accounting, reparto mezzi o media e il reparto gremio. Chi gestisce il reparto dell'account di fatto è chi ha un rapporto con il cliente, conosce e studia l'esigenza del cliente. Il reparto creativo è rappresentato da uno staff di persone che lavorano per tradurre l'immagine e l'esigenza del cliente. Si interfaccia col reparto mezzi che è colui che si occupa della pianificazione dell'acquisto degli spazi pubblici. Il cliente intende realizzare una campagna pubblicitaria mirata a far conoscere il proprio showroom allestito in fabbrica e relativa alla ristrutturazione di negozi uffici e alberghi. Siccome l'obiettivo era di ristrutturare il negozio, abbiamo scelto il tuo albergo di sostretto, quindi vedete una mano per l'altra e un campanellino per tomare il colpiere piccolo. Io mi sono appassionata di questo lavoro, per avvicinarsi a che cosa dobbiamo fare? È un lavoro che come tutti presuppone un percorso formativo. In questo settore si può lavorare in diversi campi e in relazione ai campi in cui ti piace di più lavorare, e ti devi poi specializzare. C'è il campo squisitamente creativo che presuppone un percorso più legato a una strada artistica, per cui un corso di grafica pubblicitaria. Oppure c'è il percorso dei mezzi di comunicazione di massa, cioè la parte che riguarda la pianificazione, come ottimizzare l'investimento, e allora diciamo che tu ti dovresti specializzare. Allora, se volete, è bella e interessante. Non c'è la mia esperienza, ma la ritengo utile. Perché dopo il diploma chiederò un colloquio di lavoro con questa agenzia, per poter lavorare nel mondo dell'ambito. Non c'è la mia esperienza, ma la ritengo utile.